Universo ciclismo, questa la definizione che calza a pennello per presentare la società casano che ha riunito tutte le realtà che la compongono e quindi, oltre alla squadra Juniores, anche il gruppo sportivo termo di La Spezia per gli allievi e la Fabrimar Marco Forever per esordienti giovanissime ed amatori. La cerimonia presso l'azienda Matec Industriex di Matteo Goic, nuovo sponsor con legittime ambizioni. La squadra Juniores, forte di 13 atleti, non ha avuto un avvio di stagione fortunato ma, tra le note positive, la chiamata in azzurro di diversi atleti per gli stage su pista a Montechiari ed il terzo posto di Bosivice al meeting internazionale in Belgio. La compagine è in crescita, pronta ai primi risultati su strada. Si compone di Lorenzo Giordani, Lorenzo Boschi, Ludovico Crescioli, Lapo Matteo Bozicevice, Federico Galeotti, Francesco Brugnoli, Marcus Galletti, Gairo Francesco Rossi, Martin Luciani, Pier Giorgio Cozzani, Alessandro Zanetti, Matteo Novani, Tommaso Poli. Direttori sportivi sono Giuseppe Di Fresco, Daniele Della Tommasina e Cristian Benenati. La formazione allievi del gruppo sportivo termo con Federico Cozzani, Eugenio Calcina, Emanuele Calabria, Danilo Albeia, Alessandro Franciosi, Alessandro Benedini, Martino Sani, Leonardo Benassi e per quanto riguarda il gruppo del mountain bike, Matteo Gabelloni, Gioele Gianfranchi, Leonardo Martino, Vittoria Cocchi, Vittoria Rizzo, direttori sportivi Fabrizio Cervia e Fausto D'Imporzano. Infine la Fabri Marco Forever con i sette giovanissimi Gabriele Federico Baldini, Nicola Sestella, Niccolò Ingrassia, Manuel Endrizzi, Anna Di Fresco, Aurora Della Tommasina, guidati da Gianluca Lazzini e Mirko Gazzoli. Per la squadra esordienti Cristiano Argelà, Lorenzo Baldini, Andrea Legname, Giacomo Mosti, oltre all'allieva Valentina Nitu. I direttori sportivi sono Aldo Sciuffi e Leonardo Pucciarelli. Infine ricordiamo che al mattino la Casano Organizzazioni ha tenuto una conferenza stampa presso il Museo del Ciclismo alla Spezia con l'intervento del sindaco Pierluigi Peracchini, del presidente dei giovani industriali della Confindustria alla Spezia, Francesco Pelosi, di Simone Mannelli per la Fede del Ciclismo, illustrando il logo del prossimo 45esimo giro della Lunigiana Juniores dal 2 al 5 settembre, che avrà tra le novità il patrocinio della Confindustria alla Spezia, quello della regione Liguria e da quest'anno anche il ritorno della regione Toscana. Siamo con Francesco Pelosi, che è l'attuale presidente dei giovani industriali di Confindustria. Siamo alla Spezia, siamo presso il Museo del Ciclismo, siamo in una casa del ciclismo. e Francesco Pelosi è sicuramente un abitante privilegiato di questa casa perché lo è stato per tanti anni proprio direttamente nel ruolo di general manager, di team manager e quindi del ciclismo insomma conosce tutto. Noi vogliamo però sapere un altro aspetto importante. Vediamo su questo pannello con il patrocinio di Confindustria il prossimo giro della Lunigiana. Un valore aggiunto? Beh sì, diciamo che quando dal Casano mi hanno chiesto se era possibile ragionare su un patrocinio, ne ho parlato in associazione e obiettivamente il giro della Lunigiana per tutto quello che rappresenta e per come ha fatto storia nel mondo del ciclismo è un patrimonio del nostro territorio, un patrimonio da sostenere e a livello, diciamo così, Confindustriale è uno di quegli aspetti che ci teniamo a sostenere soprattutto per l'ambito turistico. Dobbiamo ricordarci che il giro della Lunigiana ogni anno porta sulle nostre strade quasi 200 ragazzi da ogni parte del mondo, ragazzi di 17-18 anni, quindi campioni in erba, che hanno dietro delle famiglie e che possono scoprire grazie al giro della Lunigiana il territorio fantastico in cui viviamo. Quindi Confindustria, che ha tutto un segmento legato comunque alla promozione del territorio, non solo a livello industriale ma anche a livello di tessuto e quindi delle sue opportunità economiche come quella del turismo, ha accettato di buon grado di patrocinare questo evento che poi io ovviamente ho nel cuore in quanto anche appassionato. Francesco, ti hai vissuto questa trasformazione del ciclismo in questi anni, quanto è cambiato? È cambiato tantissimo, è diventato ancora più selettivo e in Italia abbiamo un insieme di problemi lato grandi team per essere competitivi con i grandi team esteri. Dall'altro lato però il giro della Lunigiana rappresenta ancora di più oggi quel palcoscenico dove i grandi team vengono ad attingere da una fucina di talenti mondiali. Non è una dinamica giusta quella di prendere corridori di 17-18 anni però è anche vero che vediamo grandissimi giovani, vedi l'ultimo Evan e Paul che è stato anche vincitore all'Unigiana che fanno cose incredibili fra i professionisti. Dunque l'Unigiana è il palcoscenico a livello mondiale, l'ho sempre definito il Tour de France degli Juniors da cui attingono i grandi team e da questo punto di vista quindi speriamo che possa ricrescere ed essere anche un po' il volano per riprendere un po' l'attività giovanile in Italia. Abbiamo parlato prima di Casa del Ciclismo, il riferimento sicuramente calza a pennello anche per il personaggio che abbiamo qui con noi, Simone Mannelli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ciclistica Italiana. Riconfermato da poco in questo ruolo importante, ma vicino anche da sempre al Giro dell'Unigiana, una manifestazione davvero a livello mondiale. Assolutamente sì, io qualche anno fa avevo dato una definizione che poi è diventata diciamo così un po' comune, il Tour de France della categoria Juniors, nel senso che come tipologia di gara è obiettivamente la gara più selettiva e diciamo così più importante al mondo per la categoria come gara a tappe e soprattutto il risultato si vede dagli ordini d'arrivo dalle classifiche dopo qualche anno, nel senso che tutti coloro che fanno bene all'Unigiana li troviamo ai vertici della categoria professionisti. E difatti, se guardiamo anche quella foto che è in basso a questo pannello, ecco uno dei grandi talenti attuali del ciclismo mondiale è Venepol. Assolutamente sì, sarà sicuramente tra i protagonisti del Giro d'Italia di quest'anno, ma non dimentichiamoci Pogacarca ha vinto il Tour de France l'anno scorso, quindi insomma sono tutti i talenti che nella categoria professionisti effettivamente dicono la loro, hanno detto, dicono e diranno la loro. Patrocino della Confindustria, quanto è importante l'arrivo appunto di questa associazione vicino a una corsa così importante? Ma è importantissimo soprattutto in un momento come questo in cui è sempre più difficile per il sponsor avere l'appoggio di un'associazione che raccoglie tutti gli industriali è un onore e anche un onere perché dobbiamo far bene, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti dal punto di vista, cioè che il Giro d'Unigiana è cresciuto dal punto di vista organizzativo. Ma questo vale per tutto il movimento, non soltanto per il Giro d'Unigiana, anche per la federazione e nel nuovo corso della federazione stiamo lavorando proprio anche a questo. La federazione del futuro, visto che siamo soltanto ai primi mesi della nuova gestione di Cordiano D'Agnoni, è un ciclismo come uscirà se una volta questa pandemia sarà veramente debellata? Ma diciamo che fino a qui secondo me abbiamo fatto bene, ma non secondo me, diciamo così a detta di tutti, anche perché siamo uno dei pochi sport che non ha interrotto l'attività né a livello professionistico né tantomeno a livello giovanile che è la cosa più importante. I nostri ragazzi hanno sempre corso, adesso abbiamo qualche problemino con la categoria giovanissimi che dovevano iniziare l'8 di maggio, mentre invece è stata posticipata a giugno in ottemperanza del decreto ministeriale. Comunque i ragazzini si possono comunque allenare, sempre rispettando le condizioni di sicurezza e anche a livello, diciamo così, di aiuto alle società, sia col passato Consiglio federale che col nuovo Consiglio federale, penso che abbiamo dato un contributo importante e di questo ci è stato dato riconoscimento. Siamo con Pierluigi Perachini, che è il sindaco di La Spezia, ma è soprattutto da sempre un appassionato del ciclismo, prima corridore, poi naturalmente continua a seguire con interesse le vicende del ciclismo. E' stato questo signore, lo possiamo dire, che ha a suo tempo ideato di realizzare questo Museo del Ciclismo che ci ospita per questa conferenza stampa. E' così? Beh, il ciclismo è una parte della mia vita, è una metafora della vita di ognuno di noi, e ha accompagnato il nostro paese in uno sviluppo incredibile, storie leggendarie nel secolo scorso che hanno coinvolto famiglie, hanno coinvolto persone, sportivi, tecnici, imprenditori, la tecnologia, cioè si è stata veramente un'evoluzione nel mondo del ciclismo che ha accompagnato l'evoluzione del paese. E' per questo che è una metafora di vita importante, chi ha corso in bicicletta sa cosa vuol dire fare sacrifici, chissà cosa vuol dire, anche avere una piccola soddisfazione, il lavoro che c'è dietro deve essere di esempio a tutti. E quindi il Museo del Ciclismo è il museo di ognuno di noi, di valori importanti, storici, e che soprattutto devono essere proposti ai più giovani per far capire che dietro a un successo ci vuole tanto sacrificio, e certe volte anche un po' di fortuna, ma senza il sacrificio non arriverà mai. Quando fu inaugurato questo museo arrivò la tappa del Giro della Lunigiana. Ci torna nuovamente anche il prossimo settembre con un arrivo di tappa. C'è un nuovo e maggiore interesse, mi sembra, in provincia della Spezia, in questa zona, verso questa manifestazione di livello mondiale? Beh sì, è chiaro che è un interesse molto importante. La nostra città, il nostro golfo, diciamo così, dal punto di vista anche turistico, è una novità a livello mondiale, perché pur essendo tra i più belli al mondo, non era mai, diciamo così, valorizzato, è stato valorizzato. Il ciclismo ci aiuta a fare questo. Noi proprio abbiamo voluto qua, due anni fa, portare la prima tappa, una tappa bellissima, dove praticamente da tutto il mondo sono venuti, hanno visto le immagini e hanno potuto capire l'importanza della promozione che il ciclismo può dare. E quindi quest'anno ripetiamo l'esperienza, un'esperienza che noi attendiamo, perché la pandemia ci ha un po' bloccato e ci ha sospeso, le nostre vite sono un po' sospese, in attesa che si torni alla normalità, si torni a rivivere le emozioni che il grande ciclismo dà. Poi il Giro dell'Unigiana è un giro internazionale, aperto veramente ai migliori talenti del mondo, e quindi è un'occasione veramente per valorizzare sia il ciclismo che i nostri posti. Grazie. Grazie a voi. E appunto ci ospita per questa presentazione. È il caso di parlare con il titolare, con Matteo Goic, e soprattutto chiedere come è stato questo arrivo nel mondo del ciclismo. Sappiamo dell'impegno della mate che in tanti altri sport mancava il ciclismo. Abbiamo avuto la richiesta in questo periodo difficile da parte del Casano, del suo presidente che conoscevamo tramite amicizie comune, sapeva che stavamo cercando di aiutare un pochettino a 360 gradi lo sport di provincia, lo sport della nostra zona, che ha sofferto moltissimo per il discorso del Covid, perché tanti sport sono rimasti fermi, hanno avuto ovviamente una ripercussione molto negativa dal punto di vista della visibilità, di poter anche fare gruppo con i ragazzi, eccetera, eccetera. E quindi appunto loro in difficoltà ci hanno chiesto la possibilità di poterli aiutare con una sponsorizzazione che a noi permette un pochettino di avere visibilità all'interno appunto di un comprensorio come quella Puano, dove noi siamo nati e sicuramente vogliamo continuare ad investire, avendo molti clienti come le ditte di marmo, di granito e in tantissimi altri settori, come adesso ci stiamo spostando appunto anche sulla nautica e in moltissime altre occasioni di business. Ovviamente l'abbiamo fatto soprattutto per poterli aiutare, visto appunto, come dicevamo, il momento difficile. Quindi dopo il calcio, che ci hanno chiesto un pochettino di aiuto e altri abbiamo fatto anche la sponsorizzazione per le paraolimpiadi, che sono state fatte qua di triathlon sul lungomare di Massacarrara, abbiamo deciso insomma di aiutare anche un pochettino il Casano. Qui non si parla soltanto di Uniorse perché ci sono un po' tutte le categorie rappresentate dai giovanissimi fino ai diciottenni appunto della categoria Uniorse. Un settore quindi che varia nelle varie categorie, ma io le chiedo, i suoi progetti, le sue aspirazioni, le sue ambizioni di salire ancora? Ma assolutamente, noi cerchiamo sempre di arrivare al massimo. Questo è l'obiettivo che la Matec si è posta, nel senso che noi quando entriamo in qualche cosa cerchiamo sempre di farla al meglio, di farlo aiutando queste realtà e soprattutto di andare a vincere, perché poi l'obiettivo è quello di avere un progetto vincente, che sia per i ragazzi, che sia per qualsiasi altro tipo di attività, per poterli portare appunto a primeggiare in tutto come cerchiamo di fare noi a livello mondiale con i nostri prodotti. Degli altri sport che ha supportato e ha dato collaborazione, ha avuto soddisfazioni in passato? Sì, abbiamo avuto tante soddisfazioni, soprattutto a livello appunto sociale, anche quando abbiamo fatto un bellissimo campionato con il softball massa. Purtroppo appunto, dicevamo, siamo entrati nel calcio quest'anno per poterli supportare sia nella Massese Calcio che nel Montignoso, però le attività si sono interrotte a causa appunto del Covid. Speriamo che comunque si possa riprendere al più presto e poter avere, diciamo, una polisportiva dal punto di vista matec e poter aiutare i giovani soprattutto a crescere, a crescere in un modo pulito, in uno sport pulito, cercando ovviamente sempre di vincere, perché questo è l'obiettivo, però in maniera leale, in maniera corretta, in maniera, diciamo, migliore possibile per la crescita anche dal punto di vista dei ragazzi, dal punto di vista della socialità degli stessi, che è molto mancata in questo periodo. Una grande realtà del ciclismo della provincia di Massa Carrara, questa della Matec, attraverso l'impegno non soltanto negli Uniorese, ma praticamente nel settore amatoriale, nel mountain bike, nei giovanissimi esordienti e allievi, grazie appunto alla sinergia tra tre società. Parliamo però di Uniorese perché qui abbiamo il commissario tecnico della Nazionale, Rino De Candido, e abbiamo Saverio Metti, che è il presidente del Comitato Regionale Toscana. Iniziamo da Rino De Candido. Questa stagione 2021, cosa ci presenterà? Sicuramente è meglio dell'anno scorso. Probabilmente a livello internazionale ci vengono a mancare diverse prove di Coppa del mondo, qualcuna la recuperano più avanti, qualcuna invece purtroppo viene tolta. Ma comunque io vedo che l'Italia è l'unica nazione europea in cui corrono gli Uniorese, corrono di certe categorie. Belgio, Francia, Svizzera e Germania è tutto chiuso. Pertanto dobbiamo ritenerci fortunati sotto questo aspetto. Primo impegno per la Nazionale Azzurra? Il primo impegno era il Casber, ma adesso l'hanno spostato a ottobre, fine settembre, inizio ottobre. Adesso andremo con delle gare a tappe, prove di Coppa del mondo, che andremo a fare a agosto, in Ungheria, Olanda e la Corsa della Pace, che è stata spostata nell'ultima settimana di agosto. Abbiamo un buon gruppo di atleti della categoria Junioris? Sì, io penso che come ogni anno abbiamo un bel gruppettino, è logico, non si può avere ogni anno i tiberi, le piccole situazioni, però abbiamo dei bei ragazzini che stanno crescendo, dei primiani che stanno vincendo, ma non perché vincono, perché effettivamente sono strutturati, hanno potenzialità per poter fare effettivamente i corridori. Saverio, il Presidente del Comitato Regionale Toscana, ho detto di una grande realtà per la provincia di Massa Carrara, con questa sinergia che unisce anche in fondo la provincia della Spezia a questa della Toscana. No, noi siamo molto contenti perché loro, a parte quello che è la squadra Junioris, che è 13 elementi, quindi molto ingente come numero di atleti, però poi hanno tutto il vivaio, partendo dai bimbi, quindi per noi è un motivo d'orgoglio. In più, sai, Casano, insieme alla parte della Liguria, organizzano il Giro della Lugiana, che credo che sia una delle manifestazioni più importanti a livello Junioris, quindi una gara tappa internazionale che ci dà la possibilità di vedere tutti i migliori atleti mondiali, mondiali, penso, europei minimo, e quindi credo che questa sia una cosa che a noi ci rende molto molto felici. Presidente, il settore che più preoccupa in questo momento è quello dei giovanissimi, anche perché non hanno iniziato ancora a gareggiare, lo faranno il 5 di giugno, ieri sera c'è stata una riunione per la stesura del calendario, quindi il vostro impegno è soprattutto di ripartire con questa categoria. Sì, noi ci eravamo impegnati fin dall'inizio, era stato fatto un calendario con un'ottantina di gare, perché c'era proprio la voglia di ripartire, poi è venuto fuori che dovevamo aspettare fino all'8 di maggio, e quindi abbiamo rimodulato il calendario partendo dall'8 di maggio. Io devo essere onesto, la Commissione giovanile, di cui referente è Mauro Renzoni, ma Laura Puccetti, Antonio Cicchetti e anche quello dell'Olimpia, no dell'Olimpia, scusa, della Santa Croce, Fogli, hanno fatto un lavoro stratosferico. Però poi è venuto fuori questa notizia che noi aspettavamo lunedì per fare la riunione, per annunciare il calendario e quindi abbiamo stoppato fino al 5 di giugno. Ora nel mese di maggio noi abbiamo suggerito di fare degli allenamenti, ma privilegiando magari l'agilità, magari il divertimento, magari quelle attività tipo facciamo squadra, in cui si potesse mischiare un po' i ragazzi senza fare delle gare, perché tanto a quell'età forse è anche meglio non avere l'assillo del risultato, in modo tale da far divertire questi ragazzi. Poi ripartirà il calendario il 5 di giugno con tutte le domeniche, due o tre gare, quindi aspettiamo con impazienza questo momento. Cristian Castagna è un po' il general manager, il team manager di questa formazione, se parliamo a livello Juniors, ma qui parliamo di un'autentica famiglia del ciclismo, di una scuola del ciclismo, perché si va dai giovanissimi agli Juniors. Sì, è nata una collaborazione con il gruppo Fabri già da tempo, con la categoria giovanissimi esordienti, poi abbiamo pensato di dare proseguo con la categoria allievi, con il gruppo sportivo Termo, e poi si va a chiudere il tutto con la categoria Juniors, un po' la categoria Regina, dove abbiamo raggiunto ottimi obiettivi nel 2020 e ci auguriamo di raggiungerli anche nel 2021. Avete da poche settimane uno sponsor importante, ne abbiamo parlato direttamente con lui, ci ha ricordato un po' naturalmente anche i suoi trascorsi nel mondo dello sport, attende soddisfazioni anche dal ciclismo. Sicuramente è un impegno che ci siamo presi, al quale cercheremo di riuscire a dare termine. Diciamo che è nata un'amicizia prima di tutto, è una persona che ha creduto nel nostro progetto e che ci ha dato veramente fiducia e noi cercheremo di ripagarlo con dei successi importanti. Questa mattina al Museo del Ciclismo alla Spezia c'è stata la presentazione del logo del Giro della Lunigiana che si correrà dal 2 al 5 settembre. Mi pare di capire che c'è un'area nuova attorno al Giro della Lunigiana da parte delle istituzioni, da parte delle varie amministrazioni. Qui vedo i tanti sponsor, insomma c'è da augurarsi un futuro promettente sicuramente. Diciamo che anche se il momento è difficile per tutti, abbiamo visto che da parte di tutti i nostri amici sponsor e delle istituzioni c'è stato veramente un ritorno a volere il Giro e a voler portare avanti anche la squadra. Quindi abbiamo insieme deciso di andare a migliorarci ancora di più soprattutto nell'organizzazione del Giro e poi di riuscire a ottenere buoni risultati anche con la squadra perché comunque è una simbiosi, è un qualcosa che viaggia insieme. Tanti giovanissimi, tanti tesserati, ma porte sempre aperte per quanto riguarda la vostra società? Noi siamo aperti a tutto e a tutti anche perché il Giro, come dico sempre, è di tutti e la squadra sta crescendo grazie alle new entry di nuovi sponsor, nuovi amici che stanno credendo in un progetto che è partito da lontano e che piano piano sta dando i suoi frutti. Daniele della Tomasina, Giuseppe Di Fresco, Cristiana Benenati, la troica tecnica e sportiva che guida la formazione Juniores. E allora iniziamo da Giuseppe Di Fresco, una prima domanda quasi scontata. Non abbiamo visto ancora la Casano-Matec in questo inizio di stagione? Ma sai, è stato un inizio di stagione con un po' di complicazioni, abbiamo avuto qualche piccolo problemino con dei corridori su cui ci si puntava subito, però diciamo che abbiamo tutto sotto controllo. La squadra già domenica al Gran Premio Liberazione siamo stati veramente protagonisti, non abbiamo ottenuto il risultato finale perché sono arrivati circa 40 corridori in volata, però la squadra è stata presente, anzi abbiamo proprio fatto la corsa, quindi è segno di condizione buona, stiamo crescendo. È vero anche che i percorsi a noi adatti iniziano adesso, quindi per il tipo di corridori che abbiamo. Noi siamo tranquilli, non abbiamo nessun tipo di pressione, quindi sicuramente manca poco che ci vedrete, dai. Nelle settimane scorse, e ci rivolgiamo a Daniele della Tommasina, tanti vostri atleti hanno effettuato vari stage in azzurro su pista Montechiari. Potete conciliare l'attività su pista e quella su strada? Sicuramente la multidisciplinarità è importante, è importante per la federazione, è importante per il casano. Abbiamo iniziato già dall'anno scorso, inserendo dei ragazzi come i tedeschi, Vignoli, aiutami Beppe, qualcun altro che sicuramente è nato in nazionale, Giordani e altri ragazzi. Quest'anno Lapo Bozicevic ha già corso con la nazionale, cogliendo un terzo posto, una medaglia di bronzo nello scratch, domenica scorsa in Belgio, quindi diciamo che si può combaciare benissimo e lavorare con serietà, con Marco Villa, col commissario tecnico, con Rino De Candido, quindi ci crediamo molto. Prima Giuseppe Di Fresco ha detto i percorsi che si adattano alle nostre caratteristiche che stanno arrivando, allora io ti chiedo, il mese di maggio e quello di giugno saranno importanti per la vostra formazione? Sicuramente noi un po' per la situazione che conosci benissimo dall'anno scorso con il Covid, i ragazzi stessi hanno preso un attimino la stagione in posto gamba perché non avevamo delle certezze diciamo sullo svolgimento regolare della stagione, quindi abbiamo iniziato un attimino a rilento. Abbiamo avuto degli infortuni, come diceva Beppe, stiamo cercando di recuperare e sono sicuro che maggio-giugno sarà l'inizio della stagione vera e propria per quanto concerne i nostri colori. Cristiano Benenati, vi è mancato in questo inizio di stagione il velocista Galeotti? Piano piano arriverà anche lui, vediamo già ora in queste corse che andiamo a affrontare, di sicuro troveremo i ragazzi molto già preparati per quanto riguarda le corse che andiamo a affrontare. Piano piano i ragazzi stiamo cercando di arrivare a quel gradino più alto che cerchiamo da un po' di tempo, però i ragazzi sono concentrati e il lavoro piano piano viene ripagato. La metà della vostra formazione sono atleti del primo anno, come si sono inseriti nella categoria? Per noi ragazzi diciamo si sono inseriti abbastanza bene, hanno già capito le nostre mentalità di noi tre direttori sportivi e soprattutto sono ragazzi che sono educati e hanno voglia di fare ciclismo. Giuseppe, in questo avvio di stagione mi hanno detto Giordani sicuramente il più pimpante, il più in forma, ma non ha raggiunto nessun risultato. Sei d'accordo su questo fatto? Sì, sono d'accordo perché è la verità, però ripeto, il percorso ad Giordani non è un velocista. Fino a ora se andiamo a analizzare le gare svolte siamo sempre arrivati gruppo in volata, quindi diciamo che mancandoti Galeotti come hai detto prima bene te perché purtroppo ha preso il citomegalovirus sembrano scuse ma però quando due o tre atleti di un certo calibro gli succede un imprevisto ti condiziona un po' il risultato globale della squadra. Crescioli ancora non ha iniziato a correre quindi abbiamo recuperato un Matteo Lapoposisevic dopo un anno di inattività e già, come ha detto Daniele, ha già ottenuto dei grandi risultati. Io sono pienamente consapevole che abbiamo tutta la tranquillità e la consapevolezza che noi sicuramente veniamo fuori. Gli appuntamenti importanti che contano iniziano adesso quindi siamo fiduciosi, abbiamo una squadra forte dobbiamo dimostrarlo sicuramente lo dimostreremo. Al volo l'ultima domanda state seguendo ormai da alcune stagioni gli Unioris e li portate al passaggio nella categoria. Prima parlando con lo sponsor gli ho chiesto perché non i dilettanti mi ha detto io sono un ambizioso non ho nessun problema e allora ti chiedo potrebbe esserci un passo ulteriore dalla categoria Unioris e per la vostra società? Ma guarda noi abbiamo avuto una bella sorpresa con Matteo Goic tramite un amico l'abbiamo conosciuto abbiamo presentato il progetto e gli è subito piaciuto. è uno sponsor molto ambizioso gli piace l'immagine gli piacciono i risultati noi lavoriamo più che altro per far crescere questo gruppo come ben visto partiamo dai bimbi arriviamo ai Unioris e Unioris è diventata una categoria fondamentale per fare il corridore purtroppo dico purtroppo perché i Unioris che vanno forti ora li prendono già nei professionisti quindi sicuramente è diventata una categoria importante noi intanto pensiamo a fare la stagione da Unioris poi strada facendo non si sa mai sicuramente le potenzialità questa struttura ce l'ha per passare di categoria ci proviamo siamo con Paolo Balloni che è l'assessore allo sport del comune di Massa grande realtà quella che stiamo presentando oggi perché davvero questo lo possiamo definire un universo del ciclismo perché si va dai giovanissimi agli Unioris Paolo sì sono sono veramente felice di essere qua oggi una testimonianza ancora una volta del fatto che lo sport nella nostra città è vivo una bella sinergia tra il mondo dello sport e il mondo dell'impresa con uno sponsor importante e l'amministrazione ovviamente è sempre a disposizione e cerca sempre di dare le risposte che gli competono per fare in modo che queste realtà si possano sviluppare nel miglior modo possibile tra l'altro sono particolarmente orgoglioso di poter dire che quest'anno per la prima volta abbiamo potuto prevedere per il mondo del ciclismo due luoghi per poter far allenare i ragazzi in sicurezza e uno è il tradizionale percorso intorno allo stadio di massa però quest'anno per la prima volta con due stanze a disposizione degli atleti per potersi cambiare o per le necessità del caso e un altro percorso in sicurezza ancora una volta grazie alla sinergia sul territorio tra realtà differenti con il mini autodromo di massa che ha messo a disposizione nella pista per poter farle allenare i ragazzi più piccoli quindi il ciclismo è una bella realtà a massa io sono particolarmente orgoglioso anche da ex ciclista di questa cosa e bene così bocca al lupo a questa realtà parliamo di uno sponsor che nel mondo dello sport nel mondo del ciclismo siamo abituati ad incontrare tante volte perché il marchio Fonte Viva lo troviamo in tante realtà soprattutto in provincia di Massacarara ma non solo ne parliamo con Lorenzo Porzano presidente del CDA di EVAM che sta per ente valorizzazione acqua e minerali del nostro territorio e io mi vanto di presiedere questo il CDA e la nostra acqua di punta è l'acqua Fonte Viva l'acqua Fonte Viva per le sue caratteristiche organolettiche è un'acqua particolarmente adatta a chi fa sport per cui è un'acqua molto diuretica e le fa bene a tutti naturalmente ma per chi fa sport che ha bisogno delle prestazioni atletiche elevate è molto molto indicata è chiaro che lo sport è salute e l'acqua è salute e allora io come posso non essere vicino a uno sport come il ciclismo poi io sono legato allo sport del ciclismo particolarmente perché i miei fratelli hanno sempre corso in bicicletta io ero il più piccolino e non mi hanno mai fatto correre perché ero il più scalmanato per cui la mia mamma aveva paura che mi facessi male perché correvo troppo l'unica mamma che in volata diceva al figliolo vai piano anziché vai forte e allora però insomma e allora io dico viva il ciclismo e il ciclismo è uno sport tra l'altro che forma perché uno sport individuale ma in realtà anche di gruppo io dico insomma ho questa mia teoria strana e allora viva Fontivano un po' altro che essere accanto a realtà come questa viva il casano viva lo sport siamo ospiti della Favrimar e allora con noi abbiamo Nello Storti che è il titolare di questa azienda che ormai da qualche anno è nel mondo del ciclismo e soprattutto in quello giovanile sì riteniamo che i giovani siano la risorsa siano la scuola da dove si parte per uno sport di disciplina di impegno che per noi veicola il messaggio che vogliamo mandare anche il nostro lavoro è fatto di disciplina di impegno e di qualità giovanissimi esordienti poi anche un gruppo di amatori è un nome che portate con onore sulle vostre mare quello di Marco Forever esatto personaggi che hanno dato tanto a questo sport persone che hanno contribuito alla formazione di queste squadre di queste discipline quindi siamo orgogliosi di aiutare i giovani attraverso queste attività a coltivare uno sport importante e che ha un riscontro anche sul territorio ho parlato di anni di vostra presenza nel ciclismo ma nel mondo dello sport la Fabrimar è stata è altrettanto presente? No noi diciamo che grossomodo ci siamo sempre solo occupati di questo di questo tipo di questo sport perché il simbolo di Carara è la ruota quindi veicogliamo con la ruota del ciclismo il nostro messaggio anche perché la Fabrimar opera in questo settore opera principalmente in questo comprensorio e quindi è importante che qui abbia una presenza forte siamo con Stefano Manfredi che è il vice presidente di questa bella realtà giovanile del ciclismo toscano la Fabrimar Marco Forever anche quest'anno nonostante tutte le difficoltà che avete dovuto superare siete presenti nel mondo del ciclismo giovanile sì una buona realtà una bella realtà una cosa che anno per anno cerchiamo di incrementare sempre più giusto per creare un bivaio di giovani che secondo me nel nostro paese sta venendo sempre meno Fabrimar Marco Forever naturalmente avete già iniziato la vostra stagione almeno per quanto riguarda gli esbeni i giovanissimi purtroppo devono attendere ancora sì sembrerebbe che si parta giugno dovrebbero essere state confermate quasi tutte le gare come da notizie date dal nostro VS e sì siamo pronti per affrontare la nuova stagione ecco come ha detto ai lavori questo prolungarsi dello stop dei giovanissimi può far mancare al ciclismo con il passare del tempo diversi tesserati cioè qualcuno abbandona per il fatto di non poter gareggiare sì questo sì però ecco noi come società cerchiamo di incrementare questa cosa e cercare di motivare i ragazzi a superare questo periodo portandoli ad allenamenti tutti i giorni e cercando di non fargli perdere la voglia di correre di stare in bicicletta grazie alla vicepresidente siamo con Gianluca Lazzini e con Mirko Gazzoli che sono i due direttori sportivi di questo gruppo di giovanissimi in attesa di poter iniziare il lavoro eh Gazzoli? in attesa in attesa stiamo continuando ad allenarci stiamo continuando a lavorare per farci trovare pronti a questo inizio della stagione diciamo agonistica fra parentesi ho visto avete anche qualche bambina in questo gruppo di giovanissimi eh sì benvengano è uno sport aperto a tutti benvengano anche le ragazze che hanno voglia di pedalare di mettersi in gioco noi accogliamo questi bimbi che hanno voglia di pedalare e che hanno questa passione per il ciclismo Lazzini ma tutto questo fermo tutto questo blocco che c'è stato e che continua ad esserci per i giovanissimi come lo avete trascorso con il gruppo? Sinceramente guarda sono stati più i bimbi che ci hanno dato stimolo a partire perché ci cercavano di allenarci però parlando con Giuseppe di fresco così abbiamo cercato sempre innanzitutto di BCM di fare tutto in regola e poi cercando qualche posto per andare a allenare perché posti non ce ne sono è difficoltoso ora il comitato provinciale sta iniziando ora a avere questi posti e quindi stiamo facendo un po' di tutto ci siamo inventati di tutto pur di farli allenare al di là della pandemia c'è questa difficoltà che è comune in tante altre zone della Toscana la mancanza di adeguati percorsi da svolgersi in tutta tranquillità sì è il problema penso che sia generale purtroppo però cerchiamo di combattere di portare in fondo perché questi bimbi qui hanno bisogno di sono stati più che altro sono loro gli eroi di questa pandemia quindi dobbiamo cercare di farli allenare Cazzoli per arrivare al Fabrimar per quanto riguarda i giovanissimi qual è la strada riavvicinata al mondo della scuola attraverso le locandine qual è il vostro messaggio perché i giovanissimi inizino con il ciclismo e magari con la Fabrimar innanzitutto da bimbo a bimbo è un trapassare di parole poi abbiamo fatto di recente anche un lavoro con le scuole abbiamo fatto provare le bici abbiamo insegnato ai bimbi nei piazzali delle scuole a muoversi in bicicletta da corsa speriamo che questo dia i suoi frutti speriamo che venga sempre più gente ad allenarsi per parlare di esordienti eccoci con Aldo Ciuffi che è direttore sportivo assieme a Leonardo Pucciarelli di questa formazione che in queste battute iniziali della stagione Aldo si è messa in luce abbiamo letto di un paio di piazzamenti di Andrea Ligname sì abbiamo fatto due sesti busti ho avuto un po' di sfortuna per le gadute e tutto comunque è un ragazzo interessante è un ragazzo che ci si può lavorare sopra anche gli altri due si ha a Agelà e Baldini sono due ragazzi sono un pochino più indietro però secondo me ci hanno ancora da esprimere parecchio perché sono ragazzi che danno prima cosa persone educate ai ragazzi educati e poi quello che gli dici di fare lo fanno io penso che usciamo fuori alla grande Aldo con tutti i protocolli anti-covid che c'è da rispettare come si sono trovati gli esordienti nelle prime gare della stagione ma uscendo dal settore giovanile dal G6 poi l'anno scorso non è che abbiano fatto tante corse si sono trovati in un mondo diverso anche con il sistema che adesso dobbiamo correre con la ponzona dura entrare dentro nella zona gialla però sono ragazzi che veramente quello che gli dici lo fanno e non mi sono trovato in disagio con loro e sono per il momento sono molto molto contento